Numero 55 di Santa Teresini e del Green, Ciccio, Vincio, Dandone Moschella, vi chiedo un applauso per questi ragazzi che sono sempre feletti ai nostri group e al nostro motorsport, di tutto, domani pensiamo bene in questa periodo. Numero speriamo che ci prenderemo la pazza, prima che sono la vera, spero, non me lo consenta, domani speriamo solo di dire a 10, ma vi sicuro questo, ringraziamo te, Ivan Spagliaro per tutto quello che è certo, di dire, e un ringraziamento anche da Terramodos e da Dolettina Pugge, sempre vero, preciso e puntuale. Grazie Ci vediamo al parco chiuso Numero 55 di un giorno a scherla, primo un piccio di parte, davanti Un'altra parte, μια del Sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.